Bentornati! Con la cultura non si mangia. Quante volte ho sentito dire questa frase? Beh, per dirvi cosa penso io di questa affermazione dovrei usare il turpiloquio e la mamma non vuole. Allora mi limiterò a dirvi che chi dice che con la cultura non si mangia o è in mala fede o è un enorme falicocefalo. Qual è il retropensiero che c'è dietro questa affermazione? È che fondamentalmente gli artisti, poi gli attori in particolare, i cantanti e anche altre categorie di performer, diciamo così, fondamentalmente sono degli artistoidi che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di trovarsi un lavoro vero e quindi fanno i cantanti o gli attori. Già i ballerini e i musicisti un pochettino godono di una maggiore considerazione, non fosse altro perché devono studiare tanti tanti anni. Se vogliamo però sono anni che i miei amici mi ripetono che io non ho lavorato un giorno in vita mia. Chiaro lo dicono per prendermi in giro, si scherza, però sotto sotto c'è un po' questo retropensiero per cui se uno non lavora o in un ufficio o in una fabbrica fondamentalmente non sta facendo un vero lavoro o con le mani, ecco diciamo così, ma se uno lavora con la testa o con la propria creatività fondamentalmente non è un lavoratore, non è un vero lavoro quello che fa. Quindi scopo di questo video è farvi scoprire che non solo che con la cultura si mangia ma che rinunciare alla cultura avrebbe delle pessime conseguenze e non ci crederete più per quelli che sono sotto il palcoscenico che per quelli che sono sopra. Allora storicamente da sempre la cultura è stata diciamo così finanziata o dallo Stato o da mecenati e se negli anni non ci fossero stati per esempio la Chiesa e i mecenati adesso non avremmo la Cappella Sistina, non avremmo le opere di Wagner, non avremmo le sinfonie di Tchaikovsky, non avremmo la Mona Lisa e un sacco di altre creazioni di un certo valore. E tuttavia attenzione che nel discorso che vi farò la cultura come valore spirituale, umano ed estetico non c'entrerà assolutamente. Cioè facciamo finta che tutto quello di interessante che poteva essere dato dall'arte ci sia già stato dato e che quindi è inutile foraggiare nuovi talenti a creare cose nuove perché queste cose nuove non hanno alcun interesse e alcun valore culturale. Ovviamente non è così evidentemente, è un iperbole ma faccio così, uso questa semplificazione per farvi rendere ancora più consapevoli del contenuto di quello che vi dirò tra poco. Perché il teatro dà da mangiare a una lunga serie di categorie professionali che un piede sul palcoscenico non l'hanno mai messo e probabilmente non lo metteranno mai. Magari nel teatro stesso non ci sono neanche entrati e ovviamente io mi riferisco in particolare al teatro d'opera ma non è che il teatro di prosa sia tanto diverso, il cinema ha ancora di più, ha ancora più indotto se vogliamo e anche l'editoria credo che possa essere utile sapere che un libro, un best seller, ha un indotto di circa 4 milioni di euro, quindi che vanno non all'editore o allo scrittore ma a chi ha collaborato con quell'editore o con quello scrittore. E parliamo di un normale best seller, quindi non di Harry Potter, ok? Parliamo di un normale libro di buona vendita. Allora io sono perfettamente consapevole del fatto che brutta gente come autori, compositori, musicisti, ballerini, attori e tutta questa terribile marmaglia di persone andrebbe estirpata dalla faccia della terra perché ripeto come ho detto all'inizio fondamentalmente è gente che non ha gran voglia di lavorare. Tuttavia voi dovete sapere che attorno a un teatro circolano anche delle persone che guadagnano grazie al teatro perché sono assunte dal teatro o perché collaborano economicamente o sono fornitori del teatro proprio grazie al fatto che il teatro esiste. Primo esempio banalissimo, il teatro è una struttura amministrativa, quindi in questa struttura amministrativa devono lavorare segretarie, contabili, ma oltre a queste figure come dire da ufficio ci sono tante figure professionali che lavorano nel teatro e per il teatro. Pensiamo solo a scenografi, attrezzisti, elettricisti, macchinisti, costumisti, tecnici del suono, light designer, falegnami, idraulici e un sacco di altre figure che lavorano nel teatro e per il teatro. Oltre a questo in teatro lavorano anche alcune figure come le maschere ad esempio o le persone addette al guardaroba o il bar che spesso è collegato al teatro e lavori per esempio come quello delle maschere sono, sapete cosa sono le maschere, sono quelli che vi accolgono in teatro e vi accompagnano al vostro posto, sono tipicamente fatti magari da studenti di liceo o di università che fanno così, che lavorano una sera ogni tanto per arrotondare il loro mensile e magari pagarsi in una parte degli studi. Poi c'è un indotto esterno al teatro, pensate quindi a quelle figure professionali come giornalisti, come blogger, come youtuber che lavorano grazie alle produzioni del teatro, non sono come dire direttamente pagati dal teatro ecco ma qualche caso magari sì insomma ma di norma questa cosa non succede e tuttavia è comunque gente che lavora attorno a quello che fa il teatro. Poi ci sono tutte quelle categorie che lavorano per il teatro per esempio come grafici, pensate solo alle locandine di uno spettacolo, possono essere interni al teatro o più facilmente essere esterni ma interni o esterni che siano sempre per il teatro lavorano e se il teatro non ci fosse non lavorerebbero o comunque avrebbero un fatturato minore. Poi abbiamo i webmaster, le agenzie di comunicazione, anche qui a volte sono interne al teatro altre volte sono esterne, i tipografi che stampano le locandine, i fotografi di scena sono dei fotografi, raramente sono stipendiati al teatro ma lavorano a progetto per il teatro, tipicamente quando c'è magari una prima, i videomaker che realizzano video per il teatro magari di promozione, magari di pubblicità e poi una lunga serie di altre figure professionali che spaziano dagli addetti alle pulizie ai consulenti del lavoro per la questione di paghe, per la questione dei contratti con gli artisti e quindi di conseguenza anche commercialisti, consulenti. Non tascuriamo poi il noleggio o la vendita di impianti audio o video, mettiamo per l'amplificazione per esempio o per gli spettacoli più complessi ci vogliono dei service, luci e audio importanti che anche qui a volte appartengono al teatro ma quasi sempre soprattutto se sono particolarmente impegnativi dal punto di vista tecnico vengono noleggiati. O ve ne dico un'altra, chi trasporterà le scenografie del teatro da un teatro a un altro o dal laboratorio dove sono state costruite al teatro? Un'azienda di trasporto evidentemente e quindi un'azienda di trasporto che lavorerà insieme al teatro, per il teatro, grazie al teatro e poi i costumi teatrali che sembrerà strano ma si sporcano, quindi qualcuno dovrà lavarli quindi le lavanderie. E vogliamo parlare dei Fiorai per esempio, di quanto lavora i Fiorai per un teatro? Per una prima, ma non solo per una prima, in tante altre occasioni e per ultimo non dimentichiamo l'indotto che il teatro ha sull'economia del territorio in questo senso veramente indiretta, ma che comunque deriva dal teatro, gli hotel. Se uno va in un'altra città, come capita spesso a vedere uno spettacolo teatrale e si ferma a dormire la notte, quell'albergo darà quella camera la notte perché c'è stato lo spettacolo teatrale. Pensate in particolare ai grandi eventi, insomma, per cui c'è gente che fa anche centinaia di chilometri, a volte addirittura migliaia, prende l'aereo, hai biglietti aerei per andare a vedere uno spettacolo magari a Londra o in un'altra grande città. E oltre agli alberghi ovviamente i bed and breakfast, le scuole, tutto il turismo che è legato a uno spettacolo appunto, e quindi i bar, i ristoranti che lavoreranno grazie ai turisti che sono venuti in quella città per vedere quello spettacolo. Non ha importanza che vengano da un paese vicino o da uno stato lontano, comunque è gente che è arrivata in quella città per vedere quello spettacolo e che quindi porterà quindi ulteriore ricchezza alla città. E ovviamente gli esercizi commerciali che ci sono nelle vicinanze del teatro. Classico, se uno spettatore uscendo al teatro compra un libro in un'alberia o un gelato o un maglione o un cane lupo, qualunque cosa compri, è un articolo che è stato venduto grazie al fatto che quel turista è andato lì per vedere quello spettacolo. E di conseguenza anche i trasporti pubblici, bus, treni. Ecco perché la prossima volta che sentite qualcuno che dice che con la cultura non si mangia, avete due cose da fare. La prima dovete insultarlo, la seconda mandagli il link a questo video così se ne racconta della cavolata enorme che ha appena detto. Allora io sono assolutamente sicuro di aver saltato ancora tante categorie professionali che lavorano nel teatro o per il teatro. Aiutatemi scrivendo qui nei commenti se ne ha saltato qualcuna e soprattutto scrivete nei commenti che cosa ne pensate dell'indotto del teatro. E ribadisco, non ho volutamente toccato nulla di artistico e non ho volutamente toccato nulla che si rifaccia alla necessità dell'essere umano di svilupparsi e di evolversi anche grazie alle creazioni culturali, la pittura, la musica, la poesia, la recitazione, il ballo e qualunque altra cosa facciano queste brutte e sconsiderate persone. Se non l'avete già fatto, indovinate un po', dovete iscrivervi al canale. Inoltre se avete piacere potete abbonarvi al canale per avere degli ulteriori vantaggi e degli ulteriori contenuti esclusivi. E vi lascio in iscrizione anche il link legato al come nasce un'opera lirica, ovvero tutto il lavoro che c'è in un teatro per far nascere un'opera lirica. Ci vediamo al prossimo video!